A Giuliano in Campania, all'esito di una complessa attività investigativa, i carabinieri della compagnia di Giuliano in Campania hanno eseguito un'ordinanza di custodia claterale, otto in carcere e tre domiciliari emesse dal GIP del Tribunale dei Napoli Nord a carico di 11 persone. Gli indagati sono gravemente indiziate a vero titolo dei reati di detenzione, spaccio e traffico di sostanze stupefacenti commesse in particolare nella frazione di Licola del comune di Giuliano in Campania. Le indagini condotte dai militari della sezione operativa della compagnia di Giuliano in Campania, sotto la direzione della procura di Napoli Nord, hanno consentito di documentare una fiorente attività di spaccio di sostanze stupefacenti, consentendo di risalire a numerosi fornitori, alcuni dei quali legati alla criminalità organizzata. Gli indagati, nel porre in essere l'illecita attività contestata, si avvalevano di un linguaggio criptico attraverso il quale indicavano in modo convenzionale la sostanza stupefacente, al fine di eludere i controlli da parte delle forze dell'ordine. Di fatti, termini quali benzina, ricariche telefoniche, pizze e sigarette, oppure una ricarica con grattino da 15 euro, 4 pacchetti di sigarette o 20 euro di benzina, secondo quanto emerso ed accettato dall'attività investigativa svolta, indicavano in realtà le varie tipologie di stupefacente, nonché in quantitativo richiesto dagli acquinenti. Il modus operandi adottato dagli indagati, anche nell'imporre con forza tale terminologia criptica per indicare il narcotico, è risultato di fatti sintomatico di attività illecite consolidate, poste in essere da gruppi delinquenziali che operano nel settore del traffico di sostanze stupefacenti.